Cristian Brusatelli e Samuele Bortoloni Partiti! Stacca tutti! Nella 367 Mi seguito Giancarina Nel Alforte Silico Cruzumano Mi seguito la reso di via attenzione Altra caduta Proce per la gara The Show was gone Team De Barcozzi Con il primo e il secondo posto Silico Cruzumano Lorenzo Ambrosini Terza posizione in bagarre Si è ripreso anche Il ragazzo che è caduto